E' morto nel reparto sanitario del carcere di Parma. Il boss della NCO, Raffaele Cutolo, è deceduto dopo una lunga malattia e dopo 42 anni in regime del 41 bis. Il fondatore della nuova camura organizzata aveva 79 anni e da circa 10 anni le sue condizioni di salute erano diventate precarie, tant'è che la sua famiglia attraverso suo avvocato si è battuta tanto per farlo ritornare a casa. Il penalista erpino Gaetano Uffiero ha presentato innumerevoli stanze per far decadere almeno il carcere duro. Purtroppo devo riscontrare che abbiamo combattuto in vano. Cutolo negli ultimi mesi, ma potrei dire negli ultimi due o tre anni, da quando ha iniziato a dire problemi di salute sia fisici che mentali, era un uomo detenuto che non meritava di rimanere sottoposto al regime di 41 bis. E invece è morto da 41 bis, con il 41 bis, mai revocato nemmeno negli ultimi giorni, nelle ultime ore di vita. Questa è l'unica considerazione che mi sento di fare oggi a meno di 24 ore dalla morte. La morte del professore Vesuviano al 41 bis ha aperto un dibattito tra politica e istituzioni. Si è chiuso il capitolo di una camurra protagonista, dichiara l'ex PM Antonio Ingroia. E forse, certo, chiosa Ingroia, il 41 bis diventa un eccesso quando si ha a che fare con personaggi ormai, per età e per condizioni di salute, neutralizzati dal punto di vista del potere criminale. Può essere questo il momento, un momento di riflessione su questo regime assurdo di 41 bis, sia applicato anche nei confronti di persone malate, di persone che non sono più portatrici di alcuna pericolosità e tanto meno di collegamenti con il mondo esterno.